Bella ragazzi io sono Martex e vi do il benvenuto su una nuova guida di Fortnite Sono appena uscite le sfide della settimana 4 e ovviamente sono andato a completare subito quella di Cerca tra una punk, un camion di gelato e un elicottero che la trovate sul mio canale come singola sfida completata E ora andremo a completare quella che ci dice Visite il centro di cerchi della tempesta diversi in una singola partita per 3 volte Che cosa bisogna fare allora per andare a completare questa challenge raga? Mettiamo caso che la vostra posizione sia all'Anda Letali e la safe zone si trovi a nord ovest della mappa Il centro ad esempio sarà proprio sotto parco pacifico in questo caso e noi dovremmo andare lì Quindi ci armeremo, ci farmeremo un po' di materiali e ci recheremo al centro di quella safe zone Questa in questo caso è la prima safe zone Una volta che il cerchio si restringe quindi si passa alla seconda, terza, quarta safe zone Ad esempio noi saremo arrivati sotto parco pacifico e la nostra posizione sarà cambiata Ma il centro della safe zone ovviamente sarà cambiato anch'esso Quindi in questo caso io ad esempio dovrò andare verso sponde del saccheggio lì vicino al centro Un po' sopra pinnacoli pendenti Una volta che sono arrivato per la seconda volta al centro della safe Lo avrò fatto due volte su tre raga Quindi che cosa succede in questo caso raga? La safe va a restringersi ancora di più La nostra posizione ovviamente sarà cambiata E noi dobbiamo andare in un altro punto diverso perché il centro sarà nuovamente cambiato Io ovviamente ho fatto tutte queste immagini per rendervi un po' la cosa più facile Però alla fine raga non credo che ce ne sia tanto bisogno Anche perché si capisce già tramite la spiegazione che cosa dovete fare Ogni volta che c'è una safe zone dovete andare al centro e basta visitarla Quindi ora andremo a fare la pratica di quello che vi ho spiegato poco fa E vedremo che cosa succede raga Ci buttiamo in game Allora io in questo caso mi vado a buttare verso Borgo Bislacco Ecco perché più o meno sono al centro della mappa e voglio essere più vicino possibile alla futura safe zone Ok ragazzi ad esempio in questo caso la prima safe zone è questa qui Bella grande ovviamente e il centro sicuramente sarà questo qui Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spostarci da Borgo Bislacco e salire fin qui Cercherò di giocarlo un po' più safe rispetto alle altre volte perché ovviamente voglio completarlo alla prima partita questa missione Voglio portarvi subito questo gameplay barra guida sul canale Ok ragazzi il centro della safe zone almeno della prima dovrebbe essere questo L'abbiamo raggiunto prima che la tempesta arrivasse ai bordi Cosicché si stringesse ancora di più e noi non avremmo potuto prendere quello che era il primo centro Infatti viene anche... Ci sarà anche questa sorta di notifica che ci dice che abbiamo raggiunto quello che è il centro Ed il primo è fatto raga Quindi uno su tre Una cosa molto simile c'era anche per quella sfida che trattava le cime delle montagne Non so se vi ricordate raga Ecco che la safe si sta restringendo raga E mi sono fermato un attimo per farvi vedere qui appunto dove sarà la seconda safe Ok raga la seconda safe è proprio su di noi E il centro sarà tipo qui Credo sarà tipo sul lago Sarà un'impresa a passarci perché sicuramente ci snipereranno Però ci proviamo Vediamo se riesco a vedere il centro Che è stato sto rumore? Raga credo di averlo preso il centro perché lì in quel punto della mappa ha fatto uno strano rumore il game Però non ne sono sicuro Perché non si vedeva Comunque raga siccome so già quello che succederà all'interno dei commenti Ci sarà qualcuno che mi chiederà se deve essere fatto in ordine cronologico Ovvero che dovete prendere per forza il primo centro, il secondo centro e poi il terzo centro Io non credo sia così Nel senso che potreste prendere il primo centro Il secondo ad esempio no che lo mancate Il terzo si Il quarto si Una cosa del genere Quindi quando ci capitate al centro della safe zone lo prendete L'importante è che venga fatto tre volte In una singola partita Quindi non si va ad accumulare con più partite Deve essere fatto tutto in un singolo match E volevi Ragazzi il centro della safe è cambiato Dovrebbe trovarsi qua sopra l'altro centro Vediamo un po' Eccolo qui raga Quindi tre su tre credo Ragazzi io sto aspettando il quarto centro della quarta safe Giusto per curiosità perché secondo me l'abbiamo già completata la missione Però voglio essere sicuro Così almeno vedete che l'ho completata Che lì c'è la spunta verde che l'ho completata Così siete anche più sicuri voi E sappiamo tutti che la missione è stata effettuata correttamente Ok L'altro centro dovrebbe essere verso sud ovest raga Dovrebbe essere in questa posizione raga Però non c'è Quindi deduco che l'abbiamo completata Ragazzi io con questa sfida vi porto anche questa vittoria Sperando di aver completato anche la sfida stessa Ok ragazzi Visita il centro di cerchi delle tempeste diversi In una singola partita Completato Quindi raga Se questa guida vi è stata d'aiuto Io vi ricordo che sul mio canale trovate anche la seconda sfida Quella lì segnata come difficile Cerca tra una panca, un camion di gelati e un elicottero In cui vado a fare vedere proprio dove si trova questa stella E magari potrebbe essere vi d'aiuto Mi raccomando ragazzi lasciate un mi piace Commentate se volete E noi ci becchiamo nella prossima guida di Martix See ya brothers